Cosa rende solida l'economia di un'azienda? La capacità di adattarsi al cambiamento, la capacità di rispondere velocemente alle nuove esigenze del mercato, la capacità di mantenersi sicura, innalzando il proprio livello di innovazione. SBDI foro è il progetto di ricerca industriale che si sviluppa nell'ambito della gestione di big data, dell'utilizzo di intelligenza artificiale e di machine learning, per la realizzazione di una piattaforma in grado di supportare le aziende nella loro crescita per farle passare da un'economia di prodotto ad un'economia di servizio, un contesto in cui l'analisi dei dati rappresenta la chiave per lo sviluppo del proprio business. L'apertura di nuovi scenari economici, la creazione di nuove figure professionali capaci di governare la mole di dati quotidianamente raccolta nelle piattaforme utilizzate nell'industria 4.0 rendono SBDI foro un progetto di grande rilevanza per la realizzazione di un sistema economico sicuro, innovativo, integrato e connesso, dallo shop floor al post vendita. L'Europa è qui, dove la tecnologia è centrale ma è l'uomo a guidarla, dove digitalizzazione non significa perdita di concretezza ma sempre maggiore attenzione al cliente. L'Europa è qui, dove la ricerca dà lavoro ai giovani e rende competitive le imprese. L'Europa è qui, dove semplicemente si può innovare. L'Europa è qui, dove metto questo,